Max Morlock Stadion Gremito in ogni ordine di posto per questa sfida che si preannuncia tutta da seguire Ben trovati da parte di Piero Gipardo e ovviamente di Stefano Nava pronto per il commento tecnico Division Rivals nuovamente protagonista su EITV con questa interessantissima sfida Si preannuncia una partita tutta da seguire Partita che si preannuncia tutta da seguire Squadra che schierano diversi giocatori in grado di regalarci giocate spettacolari Umtiti Mendy Palla larga per Hazard Griezmann Hazard Fuori gioco Offside Tutto fermo Le scelte del tecnico e dei padroni di casa per questa sfida L'allenatore ha scelto di schierare una sola punta di ruolo supportata da due sterni di spinta sulle fasce 4-5-1 d'attacco In grado di garantire anche una certa copertura in mezzo al campo in fase di non possesso Questa è la scelta del tecnico degli ospiti per il match di oggi Il portiere è Ariolà In difesa Carvacal con Mendy Ed è Nasari insieme a Chesuz Navas in posizione di ala Di punta il solo Rodrigo che dovrà tenere impegnata la difesa Occhio all'avanzata Possono passare in vantaggio Ottima l'uscita del portiere che riesce a togliere palla dai piedi dell'attaccante Sembrava già gol E invece ci ha messo una pezza Rodrigo Spettacolo e divertimento assicurati quando gioca Cristiano Ronaldo Con i difensori a... Rodrigo! De Gea ma non è finita Pallone gestito da Gerrard Occhio a Cristiano Ronaldo Può essere il gol del vantaggio È arrivato subito il gol dell'1-0 Si è liberato bene al tiro Ha beffato il proprio marcatore Come possiamo vedere benissimo da questo replay Ha potuto colpire a botta sicura Non ha lasciato scampo al portiere Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1-0 A campo sulla fascia Gerrard CR7 Cross Occhio al suo movimento Griezmann L'idea è in verticale di Griezmann Non si fa sorprendere Va Tony Cross Non si fida Spazza via di pugno Brutto passaggio Recupero facile Ilicic Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo è ovviamente Fra gli osservati speciali del match di oggi Giocatori dell'incontro Occasione per Ilicic Che bravo il portiere qui Che salva Una parata eccezionale Pieri Il risultato che non cambia Pericolo Palla in gioco Intervento così così Palla ancora pericolosa Ecco Zag La mette in area Attenzione Grande recupero in area Occhio al contropiede Palla consegnata agli avversari Cross Vidal Perno del centrocampo Della nazionale cilena Che ha vinto l'ultima Copa America Vidal è certamente Fra i centrocampisti più completi In circolazione I suoi inserimenti alle spalle delle punte E il suo tiro dalla distanza Possono rivelarsi fatali Per le difese meno attente Un brutto cliente Da non perdere mai di vista Melinkovic-Savic Fallo Nessun dubbio per l'anno Carvajal Vidal Mendy Intervento tempestivo Del difensore Che intercetta il passaggio Rodrigo Armitra ha visto qualcosa Che non va E dunque fischia Il calcio di punizione Caesos Navas Possesso palla per gli avversari Cristiano Ronaldo Passaggio da dimenticare Passaggio da dimenticare Palla regalata agli avversari Mendy Ha spazio davanti a sé Tackle bellissimo Preciso Efficace Cristiano Ronaldo Melinkovic-Savic C'è spazio davanti a sé Ottima posizione Non riesce a bloccare Attenzione Regalano palla agli avversari Il difensore è un muro Su questo tiro Antoine Griezmann Rodrigo Vidal Eden Hazard Può correre Hazard Sale L'idea in verticale Di Griezmann Intervento efficace Del difensore Che intercetta il lancio E recupera palla Hanno l'occasione Attenzione Per trovare il gol Del pareggio Occhio al corner Di Griezmann Palla che torna Alla difesa avversaria Recupera palla Intercettando bene Il pallone De Gea È pronto E c'è Ci sono ancora 120 secondi Ottima visione di gioco Qui Palla interessante Per Hazard De Gea Ma non è finita Difficoltà qui Attenzione Si è alzata La bandierina È tutto fermo Fuori gioco Sì Evidente Antoine Griezmann Può crossare Hazard Bravissimo Qui il difensore Si chiudono così I primi 45 mili Tutto pronto L'arbitro Da inizio Alla seconda metà Di gara Vidal Griezmann Bene qui il difensore Ha chiuso la linea di passaggio E ha riconquistato Palla Attenzione a Cristiano Viene pressato Ilicic Occhio a Cristiano Sul secondo palo Hanno messo il pallone in area Ma senza precisione Cross Ci mette la gamba Una buona prima Una buona prima frazione di gioco Che l'ho visto protagonista Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti Ilicic Buona qui la lettura del difensore Rodrigo Vidal Si fa spazio Punizione da posizione decisamente favorevole questa Arrischiato l'intervento in scivolata ed è andata male Qui il fallo c'è tutto Il replay come vedete evidenzia l'intervento falloso in scivolata Deve frenare la sua erroenza Posizione invitante per esaltare le qualità da fermo di Eden Hazard Non si lascia sorprendere qui il portiere Si ripartirà con una rimessa laterale Jesus Navas Attenzione perché è pericoloso Occhio attraversone Palla spazzata via da Nesta Milinkovic Savic De Jong Palla molto interessante Posizione ideale Lo stesso palla prolungato Occhio in mezzo Può cercare il cross Diozze Penecic Con il verticale interessante Milinkovic Savic Ha provato a piazzarla Buona l'idea Meno l'esecuzione Non era facile inquadrare la porta da lì Conclusione che è terminata lontana dai pali Senza creare problemi al portiere Cross Stanno sbagliando poco nel possesso palla Jesus Navas Prosegue qui dell'avanzata Può provare a metterla in mezzo Gran giocata qui Imprevedibile Intervento che vanifica il buon tentativo di cross Deviazione fondamentale del difensore Che salva la porta Ah beh questo è quasi un gol Ha impedito una rete sicura L'attaccante Era già pronto a esultare Davis De Jong Se l'è bevuto Pericolo Si porterà più due con questo gol Un margine abbastanza rassicurante Ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta Hanno un discreto vantaggio da gestire Questo gli permette di non affrettare i tempi E lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa Match che riprende An allungato portandosi sul 2 a 0 Vidal Jesus Navas Griezmann Buone qualità di palleggio quest'oggi Rodrigo De Jong Ilicic Melinkovic-Savic Attenzione a Cristiano Buon possesso palla Cercando spazi Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo I compagni lo rimproverano Perché non ha passato il pallone Ha visto uno spiraglio Si è lasciato ingolosire Sperava sicuramente miglior sorte Libera di testa al lato Sergi Roberto Arbitro che concede il vantaggio Melinkovic-Savic CR7 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 E' in buona posizione Bene Matteo Per ora può bastare Grazie Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ilicic Davies Punta la porta 600 secondi da giocare ancora Riconquista palla con il tackle Giocata di qualità Per intercettare il pallone Hazard Può metterla in mezzo Allontana il difensore De Gea Ma non è finita Gerard Melinkovic-Savic CR7 Il possesso di Gerard Gran pallone di Cristiano Tocco intelligente Ecco il gol Risponda con l'aiuto del palo Ipotizzare una rimonta a questo punto Insomma E' davvero fatta calcio Soprattutto con questi errori Da parte del portiere Risultato che si fa pesante In questi minuti finali Jesus Navas L'Engley Cambia gioco dall'altra parte Vidal Griezmann Jesus Navas Lo vede E' pressato Attenzione Tettativo impreciso del difensore Che lo riesce a liberare Occhio alla ripartenza Non va la ripartenza Buono il recupero difensivo Eccolo il fisco dell'arbitro Non c'è stato No c'è stato Eccolo a